The Never Ending Story avrà una fine? Spariranno i New Jersey che, affollati di erbacce, si trovano poco fuori Belluno dopo Sagrogna, salendo da Ponte nelle Alpi? Si lo augura chi da anni porta avanti una battaglia in questo senso. Stiamo sempre aspettando e abbiamo fiducia nella nuova giunta comunale per la sistemazione di quell'incrocio indegno. Che è lì da quanto tempo? 22 anni. Dopo l'apertura della rotonda precedente, che porta a una zona artigianale ancora tutta da costruire, sono rassicuranti le parole della nuova amministrazione. Anche per un ponticello appena dietro i New Jersey, chiuso dai tempi del crollo del Ponte Morandi, ma che, diversamente dalla ben più importante opera genovese, è ancora lì in attesa di soluzioni. A fianco di questa rotonda si stava ragionando, ricordo le commissioni urbanistiche che abbiamo fatto, di affiancarne una seconda e farne un tipo di otto. Fare un fagiolo. Intervereremo comunque a tempo debito e spero a primavera prossima di dare risultati. È una certezza che metterete mano dopo 30 anni che sono fermi e appoggiati lì? È una certezza? Sì, lo è, perché è una questione di degrado, mi prendo l'impegno di risolvere questo degrado che è alle porte di Belluno, che non sta più bene.